Grazie a tutti. Grazie a tutti. E due terzine. Non è lunga. Va bene. Va bene. Allora. È il Busecat. Fra i tanti tradizioni di Sarunat genera una periusteria. Andà. Cosa? Allora mi interrotto. No, no, no. Regola generale. Regola generale. Torniamo da capo. Ecco. Senza interruzioni però. Dopo, dopo lui mi dice tutti gli errori, ne farò 150. Eh, 150. Non sono le parole. Allora. E il Busecat. Fra i tanti tradizioni di Sarunat genera una periusteria. Andà, del martedì, i del Busecat. Qui c'è un errore, un errore di starla. In del Busecat. Allora. In del Busecat. Per preparare i tassini al mercoledì. La gente che l'arrivava dal mercat e la veniva dal paese vicino, Anca mu prima di portarsi a ca' la guerra di Sagià e il Busecat. Faltato so... Fa niente, so Busecat. So Busecat. In San Cristofar, Ganfa, Gioi sentè, In di quattorda stranis del Boudel, Regio, Regiora, E tutti i Sarunat, Marussè. De Busecat, Nans gandola un bordel, Dal sit di bestia, Piazza della Gesa, Per vengen, Un boccon, Leron Macell. A forza di sentire il dialetto, No, ma non penso. Però, Io mi chiedo. Ho avuto gusto a dirla. Io mi chiedo. Ha sfidato il mondo. Perché, Con un refuso, Lì c'era anche un errore di stampa, Con un refuso. Poi, Si è avventurato, Io non l'ho per niente. Ma sento parlare voi, Parlare voi, Nell'orecchio è... E qui si è eletto proprio per la prima volta. Sì, sì. Poi, grazie mille, eh. No, ma gli errori che ho fatto, Dimmeli, Perché io voglio saperli tutti. No, no. No, no. Vai, avanti, dimmeli, dai. No, non c'è nessun errore. Non c'è nessun errore. No, Busecchi, Forse... Perché sbaglio di solito la O con la U? No, allora, Se qui è questione di fonetica, Se mai, no? C'è Bucun, Che si scrive con la O, Però si legge chiuso, E allora diciamo Bucun. Sì, ecco, Bene che ho sbagliato proprio. Ma qui è questione di fonetica, Non è questione di... È questione di... Ma la lettura è strepitosa. Lo metto su questo pezzo qui io, eh, perché... No, no, veramente, veramente. Per voi è una cosa seria, Oh, Per voi è una cosa seria, Per cui la metto a parte. Questo me lo metto da parte io, Per dire, Questo è uno scherzo, Perché non... Invece, invece... C'è registrato in noi? Eh sì, eh. Ah, è accesa lì, Mi vedevo dentro dove ero. Eh sì, eh. Io vi confesso che mai, E poi mai, A me, È capitato nella mia vita, Di leggere così bene? No, Di vedere una persona improvvisarsi, Per la prima volta, E questa è la verità, Dichiarata, Da lui, Naturalmente c'è motivo per crederci, E di leggere così bene il dialetto, Perché io non sarei stato così capace. Ma io penso che valga tanto avere, Continuamente a sentire le persone che... E quindi noi gli facciamo tanti complimenti, Insieme a un secondo applauso. Ma no! Grazie mille, eh. Non ho trovato una cosa. Ma scusate, È strepitoso.